Con Ecodot puoi ascoltare musica jazz in pigiama, un'aria di bisee seduto sul bidet, bim metal sul divano, musica disco in cucina o racconti di paura nel tuo studio. Con Ecodot puoi ascoltare della musica o la tua radio preferita ovunque tu sia. Ti basta usare la voce. Acquista subito Ecodot su Amazon.